Eccoci nella nostra sala prove e vi vado a presentare la nostra band, anche se band come tutti gli anglicismi è un termine che non amo molto, per questo preferisco chiamarla la banda di Sega Ioni. In verità è bello frequentare un professore al di fuori dell'Ateneo, soprattutto quando si condivide una passione così grande come la musica, solo che pare che sta sempre sotto esame, un'angoscia terribile. Vedete una sega, spero per voi che la musica sia solo un pezzo perché fate vergogna.